Sono Marche, come stai? Non mi sapevo che cazzo vuoi da me veramente Mi sono un po' i coglioni di quello che mi stai combinando in giro Hai capito? E lasciate andare alla papela, eh! Stronzo! Ce l'ho su nel camerino, ho dimenticato di portarla giù Dove risulta che mia madre non aveva nessuna massa cerebrale e tumorale al cervello Se vuoi dopo te la faccio avere Grazie a tutti